La glicemia è uno dei valori più importanti da monitorare per la salute del nostro corpo. Si tratta del livello di zucchero presente nel sangue e rappresenta un indicatore fondamentale della funzionalità del nostro organismo. È importante sapere che un livello di glicemia troppo alto o troppo basso può essere sintomo di patologie più o meno gravi. La glicemia è il livello di zuccheri nel sangue, essenziale per la nostra energia e per il nostro organismo. Quando mangiamo, il nostro corpo trasforma i carboidrati in glucosio. Il glucosio viene poi assorbito dal flusso sanguigno e di conseguenza il pancreas rilascia insulina. Questa consente alle cellule del nostro corpo di utilizzare il glucosio come energia. Quando non mangiamo o quando facciamo attività fisica, il livello di glucosio nel sangue diminuisce, a questo punto il pancreas rilascia un altro ormone, il glucagone. Questo ormone fa aumentare il livello di glucosio nel sangue, trasformando il glicogeno, la forma in cui il nostro corpo conserva il glucosio, in glucosio stesso. È importante mantenere un livello di glicemia stabile per garantire il corretto funzionamento del nostro organismo. Per mantenere un livello di glicemia sano, è importante seguire una dieta equilibrata e fare regolare attività fisica. Una dieta sana dovrebbe includere una varietà di cibi, tra cui frutta, verdura, cereali integrali, proteine magre e grassi sani, ed è importante anche evitare di mangiare spesso cibi ad alto contenuto di zucchero e carboidrati raffinati, poiché possono causare picchi di glicemia. Per mantenere ad un buon livello la glicemia si possono anche assumere degli integratori specifici. La spirulina in particolare, quando è di buona qualità, oltre a dare grandi beneficio a tutto il corpo, contiene un alto contenuto di proteine e fibre, che aiutano a rallentare la digestione degli zuccheri e a prevenire picchi di glicemia. Inoltre, contiene anche una sostanza chiamata fenilalanina, che stimola la produzione di un ormone, che a sua volta riduce l'appetito e controlla la fame. Diversi studi scientifici hanno dimostrato che i pazienti affetti da diabete che hanno assunto spirulina, hanno mostrato una riduzione significativa dei livelli di zucchero nel sangue dopo solo due mesi di assunzione. Grazie! Grazie!